bella raga qui è ventodimino87 e oggi siamo su The Haunted Mansion ancora una volta abbiamo tenuto la gemma dei corpi potenti e dove dobbiamo andare a 340 spiriti giardino invernale chi è che tiene un giardino invernale? ah forse la serra no buono adesso non capire vabbè allora ok quindi boccetta qui la posso raccogliere no ovviamente ci posso tenerso che è tutto ora è troppo facile ah è geniale è geniale ok oh no 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 per girare le manovelle e il cruci in batterio potrai tenere per punto attiva fino a quando non potranno più essere ruotati ok aspettate ho sentito degli spinti maligni questa volta di fregarmi vero? questa volta di mettermelo in culo invece no ok no un po' più veloce direi oh porca troia no 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 oh cosa sta cosa ha fatto? è stata quando non gli avevo detto di farlo è bella che sto sotto vai laviamoci facciamone una bella doccia che penso che tu puzzi anche no porca troia ok a quanto capito devo saltare perché sono ancora vivi? a quanto capito se è salto ci mette meno tempo a crollare cro...cro based c'è più tempo prima che rolli se salto ho capito tutto oh che culo ok giriamo su fontana speriamo di non morire di nuovo facciamoci una doccia no perché prima portavo sfortuna no oh che culo no 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 il ragno è morto fantastico ok aspetta giriamo a quanto tempo siamo 3 minuti soltanto ci sta anche in questo video faccio distante ok questa wow ha fatto un super salto ho fatto un super salto incredibile dì che ritiro ciò che ho detto sulla sua atletica ok ok ora veloce ok ora spostavo all'alto dove hai intuide di potercela fare adesso boh cos'è l'alto dietro la finestra la finestra c'è qualcosa questa finestra c'è qualcosa qui dietro cos'è l'alto dietro la finestra c'è lì io l'ho visto era un qualcosa la pace che mi stava insistentemente addosso 15 spiriti e dove li vado a trovare 10 spiriti fatti un giardino però un po' è incatinato oh no qua non ci sto di siro prendo fuoco e muoio cosa sto a fare nel dischietto granetti non mi spaventano ci diviate molte porca troia non me l'aspettavo è comparsa in nulla oh ma che infarto si è preso un attacco di cuore allora intanto qui c'è una carta ci prendiamo un po' di vista che la puttana di delineo ce l'ha portata via un po' oh no mi prendi per il culo ragni soltanto ok ce l'ho fatta in 7 minuti ho finito sta stanza 355 spiriti si ok direi che possiamo andare via senza problemi qui d'altro c'è un vecchietto un giardiniere penso boh vabbè quante vite abbiamo al massimo sono 7 minuti e mezzo e registriamo la batteria della telecamera quanto è perfetto allora vediamo un po' ce la potrei fare a fare l'ultima stanza? boh non lo so non so se riesco a fare la prossima stanza anche se non so qual sia e nel dubbio metti in pausa e ci vediamo nella prossima parte ciao ciao